Per dipingere bene ci vuole pazienza. 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 Qui comunque bisogna andare per masse. Me lo devo ricordare. Perché già sto sbagliando. Per dipingere bene ci vuole pazienza. 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 Per oggi ci vuole pazienza. Per oggi ci fermiamo qui. Ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti. Quindi iscriviti al canale. Clicca qui sotto. Vieni a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao. 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 Ciao.